Ma veniamo al tema, come fargli sentire la tua mancanza, pensarti, desiderarti in tre passaggi. Ti ricordo però, cara Malgasciona, in odore di carampagine, che sul canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Tramasco farà un seminario venerdì 24 settembre, per cui non puoi non partecipare, cioè devi partecipare. Il seminario sarà sull'imprinting, come usare l'imprinting nella seduzione. Tu sai, cara Malgasciona, che l'imprinting è fondamentale per sedurla, perché noi possiamo gestire il nostro imprinting per sbloccare delle energie e utilizzarle come scongelare una bistecca e poi mangiarcela, ed utilizzarle per raggiungere i nostri obiettivi. E possiamo comprimere le emozioni degli altri per sedurli, per dargli emotività. Quindi, cara Malgasciona, non puoi mancare a questo seminario. Per partecipare basta che vai sul canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Tramasco, on page, tastino abbonati, che sta vicino a tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer. Ma veniamo al tema, come fargli sentire la tua mancanza, pensarti, desiderarti in tre passaggi. Intanto, ho già letto diverse volte che se tu, come dire, vuoi essere seduttiva nei confronti di un uomo, questo deve percepire la tua mancanza, perché altrimenti non c'è niente da fare. Ti considererà una ciabatta vecchia, giustamente. Ti metterà nel, come dire, nel ripostiglio e poi quando le ciabatte nuove magari non saranno pronte, userà te. Cioè, perché noi diamo valore a ciò che ci manca, non a ciò che abbiamo. Questa è una caratteristica degli esseri umani. Probabilmente è quella caratteristica che ha fatto sì che l'essere umano abbia poi sviluppato, sempre, insomma, abbia conquistato nuove terre. Pensate, che ne so, i conquistatori oppure anche gli esploratori. Cazzo gli ne fregava di andare a esplorare, a cercare nuove terre, se non avessero questo spunto di cercare qualcosa che mancava. Questo è una spinta evolutiva dell'essere umano. Quindi, e vale anche nella seduzione. Noi nella seduzione, nell'amore, nell'innamoramento, siamo spinti intrinsecamente, è una caratteristica molto profonda, radicata nell'essere umano, a cercare quello che non abbiamo. L'isola che non c'è, come direbbe Bennato, mi sembra che fosse, l'isola che non c'è. Andiamo alla ricerca dell'isola che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, non diceva la canzone. Però è più o meno una cosa simile. Quindi, cara malgaciona, devi imparare a diventare l'isola che non c'è. E al coglione che ti interessa, devi fargli fare seconda stella a destra e poi fare tanta strada. Perché l'isola che non c'è è lontana! Non puoi dire l'isola che non c'è dietro l'angolo. Fai due passi e tu lo accogli a braccia aperta, per non dire gambe aperte, e finisci lì. Ma veniamo, quindi, questo è il concetto di base, il background sul quale ragionare. E tra l'altro, quando vedremo, tu ti iscriverai, ti abbonerai al Felicità Benessere con Massimo Terramasco e parteciperai al seminario online sull'imprinting e la seduzione, scoprirai come è molto semplice, tutto sommato, scoprire la tipologia dell'uomo che ti interessa, qual è il suo imprinting e quindi comandarglielo analogicamente. Analogicamente a stimolare per sedurlo, perché gli stai dando emozione. Allora, quindi, come agire? Quali sono questi tre passaggi? Beh, il primo passaggio è fondamentale. Devi, come dire, non essere una sciattona, non essere una rifattona, non essere una sciampista. Perché? Per far sentire la mancanza deve essere qualcosa di valore, qualcosa di raro, qualcosa di prezioso. Questo è un altro concetto che devi tenere presente. Noi diamo valore a tutto ciò che è raro. Se tu ti presenti sciattona, sciampista, anche se fossi, diciamo, maculata, leopardata, minigonnata, attaccata e profumata, come dire, di mignotta è pieno il mondo. Non è che l'uomo ha la ricerca della mignotta in sé. Cioè, nel senso che ce ne sono tante, no? E gli viene dato, giustamente, io parlo di uomini di qualità, poi, per carità, se ti rivolgi al catramista, casa integrato, senza fissa dimora, talebano, diciamo, questo è un altro discorso. Ma, se tu vuoi veramente, diciamo, avere la possibilità di conquistare un maschio alfa, un maschio, un uomo di qualità, devi essere una donna di qualità. Quindi, il primo passaggio è veramente dare valore a te stessa. Dare valore a te stessa. Ad esempio, se non sai neanche scrivere in italiano, ma come puoi pretendere che un uomo di qualità ti prendi in considerazione? Quando scrivi messaggi, sbagli i verbi, avverbi, congiuntivi. Non sai fare niente. E questo è il primo punto, no? Devi, perlomeno, diciamo, diventare una donna che sa scrivere. Devi diventare una donna che sa, diciamo, da un certo punto di vista, avere una certa cultura, dimostrare una certa cultura. Sei ignorante come una capra? Non puoi pretendere. Non è che devi diventare un premio Nobel, ma vai a studiare. Piliati una laurea, pigliati qualcosa. Almeno sviluppa la tua cultura, insomma, in qualche modo, no? Cerca di avere, come dire, di presentarti come una donna che abbia un certo valore, un certo spessore anche culturale. Perché se tu guardi solo lo spessore delle tette e pensi che quello sia il modo per far innamorare uomini di qualità, questo è sbagliato. Lo spessore culturale è importante. Quindi la prima cosa che devi fare per far sentire la mancanza di un uomo è farti percepire come un uomo di qualità. Perché noi possiamo sentire la mancanza di una donna che abbia valore. Ma vale anche viceversa per gli uomini. Catramista, Cassa Integrato, non manca nessuno. Anzi, vanno a accendere un cero alla Madonna quando si toglie dei coglioni, diciamo così. Quindi questo è il primo punto. Quindi il primo punto è veramente concentrati sul valore che dai a te stessa e percepirti come una persona di valore. Questo è un altro punto fondamentale. Quindi il primo punto necessariamente è la cosa concentrarti su te stessa, dare valore a te stessa. Secondo punto, affinché lui ti pensi e inizi a concentrare il suo pensiero sui te lascia delle guest altaperte. Non dargli certezze. Quando interagisci con un uomo devi non dare certezze che sei coinvolta. Frenzonalo di brutto al primo approccio. Digli, ma sì, mi piaci, ma ti vedo un po' come un fratello. Quindi vai un po' a ferire anche il suo orgoglio di maschio. Potremmo essere ottimi amici, abbiamo molti punti comuni. Intanto cerca veramente di capire se hai dei punti in comune perché se quello ha, diciamo, un modo di vivere completamente diverso dal tuo che cazzo te ne fai alla fine? Cioè, eppure sono tante donne, magari con la sindrome della cocerossina che si innamorano appunto del coglione che non vale niente. Cerca di un uomo di valore, un uomo di qualità, un uomo, diciamo, che possa essere... possa dare un valore aggiunto significativo, insomma, un miglioramento alla tua vita o continuerai a fare la vita di merda che hai sempre fatto. Anche da un punto di vista sentimentale affettivo, collezionando tutta una serie di, diciamo, di uomini che ti hanno rivoltato come un calzino e buttata nella rumenta, diciamo, indifferenziata però, e neanche quello organico, quindi indifferenziata. Ecco, quindi, secondo punto, lascia delle gestate aperte, sii misteriosa, non essere, diciamo, prevedibile, e questo è importante, fondamentale. E poi, il terzo punto, e questa è un'altra cosa importante, crea preselezione, quindi devi interagire con tanti uomini, con altri uomini. Se io voglio sedurre Tizia, ebbè, interagirò con Kaya, Semprogna e altre due o tre, cioè, con caratteristiche diverse, istituzionali, trasgressive, come dire, meglio abbundare quando è ficere, quindi più ne metti nel calderone, meglio è, quindi agisci online, offline, con tanti tipi, e soprattutto deve essere percepito, e qua utilizza i social, Kaya Carampano o Malga Shona, per far sì che molti ti percepiscano come attraenti interessanti, quindi magari cerchino di flirtare con te e scrivono un po' di cose. Ecco, queste sono le cose fondamentali, poiché tu devi fare per far sì che un uomo senta la tua mancanza, inizia a pensarti, inizia a desiderarti, ovviamente. Fallo e vedrai che le cose miglioreranno, e la tua vita non sarà più la solita vita di merda, ma potrebbe essere una vita migliore da questo punto di vista. Grazie a tutti.